bello a tutti ragazzi oggi siamo qui su tuber more or less ovvero sarebbe anche l'overgame però su cellulare e soprattutto in versione youtuber aspettiamo che entri perchè ci vuole un po' di tempo prima che entri perchè questo gioco è strano togliamo l'account nell'account non ci interessa eccoci qua facciamo Italia ovviamente allora MA Music o Will Wush io non conosco MA Music quindi spesumo probabilmente MA Music anche se non lo conosco però sarà sicuramente MA Music quindi ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato iniziamo una nuova partita si e schere qua chiudiamo 5Gamer89 5Gamer quindi più basso yes Krav Magna Training più alto giusto Surreal Power c'è un milione più basso più basso è un milione e un milione 2Gamer89 prosegui Ah c'è il video 20 secoli di pubblicità Golden Jumpy Più basso Abbiamo detto Più alto Più basso Più basso Più basso Più alto Più basso Inizia nuova partita Robazzi Più basso Robazzi c'è il milione Non può essere Come è possibile Più alto Più alto Ok Perché sono le pubblicità Sempre Perché non è che delle pubblicità Più basso Più alto Più basso Più alto Più basso Più alto Più alto Più basso Più basso Più basso Più basso Più basso Anche se non li conosco Per essere dimingoni al mondo Si Qua si chiude Bad feed blue Più basso Più basso Più basso Un poco Martetti Più alto Più alto Più alto Madonna 14 milioni Madonna santa Più basso Perfetto Più basso Perfetto Più alto Perfetto Più basso Siiii Siiii Più alto Menù Vediamo cosa c'è Ma altra pubblicità C'è la pubblicità C'è la pubblicità C'è Stato Uniti Brasile Quanta cosa c'è Facciamo indonesi a caso Noi non conosciamo ovviamente niente Però facciamo più basso Noi giochiamo anche di quelli che non conosciamo Perchè noi siamo swag Aspettate, vabbè più alto E li conosco io Non posso saperlo Porca boia Più alto Giusto Giusto Più basso Siiii Più alto Giusto Più basso Giusto Più basso 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 Più alto Un milione e tre Non so chi sia Dextra è molto più alto Più basso Più alto No, no, no Mi l'ho ricordato, 644 Quella cavolo di ma music Come sempre pubblicità Sì, non sapevo manco chi fosse Più alto Più alto Più alto Più alto Più alto Scottax Più basso Alberico di Gilgo Più basso Joker più alto Un milione e tre Xmoorri Più basso Sì Scherzo di coppia Più basso Aspetta Film and clips Più alto Sì Non so chi siano Più basso Sì Brazio più alto Brazio più alto Brazio l'immortal situa Brazio Brazio Cavoli Brazio Più basso Più alto Più basso Più basso Più basso Più basso Più alto Più basso Cosa? Ma non ne manca italiana E' tipo americana Ultimo Più basso Più alto Più alto Più alto Più basso Più alto Più basso Più basso Più basso Abbiamo detto il milione Chi è questo? Più basso Più alto Stormi più basso Infatti giusto Golden Jump più basso Vabbè Ci vediamo Alla prossima volta Con un altro genere Di questi giochi qua Che tanto sul Play Store Ce ne sono sempre tantissimi Di qualsiasi genere Ditemi il genere che vi interessa Chi ha più iscritti Comunque si potrà sempre fare un episodio Tanto noi lo terremo sempre installato Quindi Da 1523 Tutto E dai cari youtubers italiani E non solo italiani Che hanno dai milioni di iscritti Ai 300 milioni di iscritti Ci vediamo Al prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.